Salve ragazzi, qui Genia Perchè Parla e quest'oggi, da come potete vedere, siamo sulla demo di FIFA 17. Io ho già iniziato a fare una partita, ho visto che i comandi sono sempre gli stessi, però c'è un po' di difficoltà in più rispetto a FIFA 16, però è molto molto bello. Allora, io mi trovo molto bene con il Real Madrid e facciamo Real Madrid e Juventus. Dai, 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 dai. Ok, ok, vai Cristiano Ronaldo. Vai, subito, passa. No, non ce la faccio. Dai, 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 dai. Comunque io ho visto difficoltà, è esperto, per non mettere una difficoltà troppo grande. Vai, passa subito. No, 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 no. Il tiro! Non va, non va, non va, non va. bravissimi scivolata insieme insieme madonna chi ha sbagliato chi ha sbagliato già è finito il primo tempo 1-0 per la rivoluzione insieme insieme bene perfetto avanza e dai dai ok cross bene attenzione insieme bravissimo rodigliet combatti sempre vai Ronaldo no madonna mia che preso vai sempre no madonna non ha fatto questo no 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 ok bravissimo marcelo vabbè non ci siamo capiti non abbiamo inteso dai Ronny dai Ronny dai Ronny dai Ronny il tino no no aspetta aspetta non c'è nessuno che ci furga dai no via ok vai 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 di velocità vai vai di velocità ma come si è fatta sull'area presto ma vai no 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 non posso perdere la mia prima partita di 2017 ma cosa fa di cosa l'ho fatto questo non ci siamo mai eh vabbè mando ronando eh vabbè va bene ragazzi il video può finire qui spero che vi sia piaciuto comunque è un molto bello gioco superiamo i 5 likes per questa demo di FIFA 17 e noi ci vediamo ad un prossimo video bella ragazzi ciao